amici oggi un'interessante lezione dedicata alla cittadinanza italiana andiamo a vedere in questa intensa lezione andiamo a capire come funziona come si acquisisce come si rinuncia alla cittadinanza italiana in varie diverse slide ovviamente è un diciamo un'esposizione alquanto semplice diciamo essenziale quali sono le fasi e chi può acquisire come può acquisire la cittadinanza detto a grandi linee c'è una vasta legislazione dietro ovviamente queste slide c'è un ci sarebbe un si aprirebbe un mondo molto ampio molto complesso e come per tanti altri discorsi io non sono non sarei la persona giusta per affrontare in modo così diciamo non preciso ma approfondito l'argomento questo diciamo sono una decina di slide che vi spiegano a grandi linee ecco chi può e come funziona la cittadinanza italiana chi può acquisire in che modo e come appunto come appunto funziona andiamo subito alla prima slide la cittadinanza italiana per cittadinanza si intende il rapporto di appartenenza di un individuo a uno stato con conseguenti diritti e doveri civili e politici in italia il concetto moderno di cittadinanza si sviluppò in seguito alla nascita dello stato unitario nel 1861 unità d'italia abbiamo fatto una bellissima anni fa lezione dedicata all'unità d'italia se vi interessa andatela a vedere perché spiega appunto come si è arrivati a chiamarla italia la cittadinanza è un diritto citato nella costituzione italiana l'articolo 22 recita che nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica della cittadinanza e del nome ed è disciplinata principalmente dalla legge 91 del 1992 dal 1992 lo stato italiano ammette la doppia cittadinanza ed è possibile quindi essere in possesso di un'altra cittadinanza oltre a quella italiana come si diventa cittadini italiani ecco per chi è italiano come me ovviamente non si fa questa domanda perché nasce da un genitore italiani vive e cresce in una scuola italiana o con parenti italiani praticamente non è una domanda da farsi però ci sono molti ovviamente non solo in italia adesso parliamo ovviamente di italia ma di stranieri ma anche in altre nazioni che ovviamente essendosi spostati in un'altra nazione e la domanda opportuna è come faccio diventare cittadino e prendere la cittadinanza di una certa nazione dove sto vivendo probabilmente o dove ho intenzione di andare a vivere come si diventa appunto cittadini italiani per nascita da un genitore italiano e questa si chiama ius sanguinis in italia la cittadinanza si acquisisce iure sanguinis per diritto di sangue cioè per nascita o discendenza quindi se nasco da un cittadino italiano perché mio padre è l'italiano io per discendenza divento automaticamente cittadino italiano infatti lo dice in base a questo principio chi nasce da un genitore italiano è automaticamente un cittadino italiano indipendentemente dal luogo in cui è nato quindi se nasco in negli stati uniti ma il mio padre è italiano io acquisisco automaticamente la cittadinanza italiana è sufficiente che uno solo dei genitori padre o madre sia di cittadinanza italiana ma però ricordato che prima del 48 anno in cui entrò in vigore la costituzione era solo il padre a trasmettere la cittadinanza la madre non trasmetteva la cittadinanza la costituzione ha introdotto la parità tra uomini e donne e quindi anche le donne appunto anche le donne veniva riconosciuto alla trasmissione della cittadinanza anche la madre che e se ovviamente c'era solo la madre poi ovviamente sia sempre la certezza della madre da cui si nasce non sia la certezza del padre questo è un altro discorso però ancora di più quindi significa che se la madre era italiana ed è italiana anche il figlio ovunque nasca acquisisce la cittadinanza italiana adozione cosa succede quando si adotta un bambino minorenne o maggiorenne acquisisce sì o no la cittadinanza allora la cittadinanza iure sanguinis si acquisisce anche in caso di adozione se un minorenne straniero viene adottato da un genitore che sia cittadino italiano acquisisce automaticamente la cittadinanza italiana nel caso in cui sia maggiorenne invece il figlio adottivo non acquisisce automaticamente la cittadinanza italiana ma mantiene la cittadinanza straniera se lo desidera dopo cinque anni di residenza in italia può richiedere la cittadinanza italiana si tratta in questo caso di un acquisto della cittadinanza per residenza che è la naturalizzazione quindi dopo un certo periodo che si risiede poi dopo lo vediamo nello stato italiano e si vive da residenti nello stato italiano si può fare la richiesta di essere di essere naturalizzati quindi di acquisire la cittadinanza in questo caso per residenza e per i figli maggiorenni adottati possono farlo dopo cinque anni di residenza in italia e dopo essere stati ovviamente adottati da un genitore italiano riconoscimento o sentenza la cittadinanza iure sanguinis viene acquisita anche da un figlio naturale che viene riconosciuto da un genitore italiano quindi figlio naturale significa che a un certo punto un genitore dichiara che quello è suo figlio se ovviamente anche dopo la nascita questo genitore l'ha dichiarato ha riconosciuto questo figlio che non era ancora stato riconosciuto quindi punto interrogativo poteva non avere la cittadinanza poteva non avere nessuna cittadinanza a quel punto quel figlio acquisisce la cittadinanza automaticamente quindi questa è sempre una cittadinanza iure sanguinis perché è diciamo di discendenza dal padre che ha riconosciuto il riconoscimento può verificarsi subito dopo la nascita oppure anche a distanza di anni e si realizza con una dichiarazione resa in comune stato civile quindi nello stato civile di una famiglia di solito c'è la relazione fra i membri della famiglia e se sono padre figlio sorella eccetera eccetera sposati eccetera eccetera quindi questo definisce che quel figlio essendo stato riconosciuto acquisisce la la cittadinanza oppure davanti a un notaio o in un testamento il figlio naturale che non è stato riconosciuto da un genitore può essere dichiarato tale da una sentenza di un giudice quindi il genitore non ha riconosciuto il figlio ma o il figlio o qualcun altro vuole in qualche modo fare riconoscere che quella persona era figlia di un cittadino italiano di una specifica persona quindi in quel caso lì è la sentenza di un tribunale che dichiara che quella persona era figlia di ma che soprattutto acquisisce la cittadinanza italiana in entrambi i casi se il figlio è minorenne acquisisce la cittadinanza italiana automaticamente mentre se è maggiorenne deve dichiarare entro un anno la sua volontà di ottenerla quindi elezione di cittadinanza discendenza dai migrati italiani ecco qui come in tutti gli ambiti si aprono delle grosse parentesi perché si va indietro nel tempo quindi si si sa no molti ne abbiamo parlato con generoso voglio ricordarmi di lui si sa non solo oggi ma nel passato c'è stata un'emigrazione degli italiani verso l'america latina verso tantissimi altri paesi del mondo hanno fatto gli italiani molti successi sono stati diciamo avventure diramate in tutti i paesi del mondo e qui ovviamente sorgeva un dubbio quei figli nipoti divenivano poi cittadini italiani quindi la domanda è io se sono nato all'estero da un genitore ma sapevo che mio nonno era italiano allora posso acquisire la cittadinanza italiana ecco lo vediamo a partire da questa slide discendenza dai migrati italiani i cittadini stranieri discendenti da un avo italiano quindi da un nonno bisnonno quello che era emigrato all'estero possono ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis questa opportunità è particolarmente favorevole per discendenti che essendo nati in un paese straniero dove è in vigore lo ius soli come ad esempio gli stati uniti il brasile l'argentina hanno acquisito automaticamente la cittadinanza del paese estero in cui sono nati quindi lo ius soli stabilisce che se il figlio nasce in un certo paese acquisisce automaticamente la cittadinanza di quel paese quindi io italiano vado negli stati uniti faccio un figlio negli stati uniti gli stati uniti dicono ok essendo nato su questo terreno su questo soli su questo suolo questo bambino acquisisce la cittadinanza statunitense ma anche ovviamente italiana tra virgolette perché io sono il genitore italiano per richiedere la cittadinanza iure sanguinis ci sono delle condizioni quindi immaginiamo che questo figlio questo nipote pronipote nasca all'estero come può ottenere la cittadinanza questa persona ci sono alcune condizioni appunto l'avo di origini italiane deve essere nato in italia dopo il 17 marzo 61 data di proclamazione del regno d'italia stiamo parlando di 150 anni fa quindi ahimè è molto probabile che un nonno un bisnonno sia nato ossia tra virgolette anche questa è un'eccezione anche morto quindi sia vissuto in quel periodo che a cavallo se a cavallo del 1861 ci sono poi delle varie eccezioni che non nelle quali non stiamo a rientrare perché altrimenti ci vorrebbe uno non una lezione ma un canale dedicato solo a questo quindi un mio bisnonno nonno deve essere nato dopo il 1861 quando ovviamente c'era l'italia l'italia fatta quindi il regno d'italia lavo e tutti i successivi discendenti fino al richiedente devono avere conservato la cittadinanza italiana almeno fino alla nascita del discendente quindi in questo caso leggo la parentesi in questo caso la cittadinanza italiana si considera persa in caso di naturalizzazione o di rinuncia vi spiego questo è abbastanza semplice se mio nonno va in un paese straniero e poi si naturalizza per quel paese straniero quindi diventa statunitense diventa francese diventa di un'altra nazione di un altro stato si naturalizza sostanzialmente in qualche modo il figlio non eredita la cittadinanza italiana quindi il figlio cioè il padre o il nonno che sia non non eredita la cittadinanza e quindi la persona alla quale dovrebbe aspettare per diritto iure sanguinis la cittadinanza non può perché perché il nonno ha acquisito una cittadinanza straniera prima si è naturalizzato prima di avere il figlio e quindi si è interrotto in qualche modo la discendenza di cittadinanza italiana che ovviamente veniva ereditata nella linea di discendenti e presente una donna il discendente di questa deve essere nato dopo il primo gennaio 48 in cui è entrata in vigore la costituzione proprio per quel discorso che facevamo prima uomo donna dove anche la donna diciamo diciamo porta in qualche modo la cittadinanza ai figli e non solo il padre non solo il marito in presenza di questi requisiti si può richiedere la cittadinanza iure sanguinis al comune se si risiede in italia o al consolato se si risiede all'estero negli altri casi ad esempio se un discendente in linea materna è nato prima del 1848 si deve ricorrere si può ricorrere al tribunale quindi non è una pratica diretta anche se apro una parentesi la pratica non è per niente semplice non entriamo in questi discorsi ma ci vogliono documentazione ci vogliono stati civili atti di morte di nascita eccetera eccetera quindi è molto complicata però si va in comune si va al consolato e dopo vari mesi mesi magari anche anni ovviamente viene a seconda della semplicità della o della complessità della pratica viene diciamo data la cittadinanza se invece c'è qualche eccezione alle diciamo sopra citate regole tra virgolette criteri bisogna passare bisogna ricorrere al tribunale vedere se poi la sentenza del giudice ammette che quella persona può essere definita e acquisire la cittadinanza italiana servizio militare o impiego pubblico gli stranieri discendenti da un cittadino italiano possono acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis in modo agevolato diciamo più semplice con una semplice dichiarazione di volontà in presenza di questi requisiti essere discendenti fino al secondo grado di un cittadino italiano in cui praticamente era il nonno in qualche modo che aveva svolto il servizio militare impiego pubblico avere svolto il servizio militare nelle forze armate italiane oppure assumere un incarico pubblico presso lo stato italiano anche all'estero la volontà di acquisire la cittadinanza deve in questi casi essere dichiarata preventivamente quindi prima di fare quel avere quell'incarico quella servizio che si fa militare bisogna ovviamente richiedere anticipatamente essere residente in italia ad almeno due anni al momento del raggiungimento della maggiore età 18 anni poi abbiamo la quella che è ovviamente molto discusso in italia è la cittadinanza per nascita sul suolo italiano ius soli quindi il diritto di diciamo essere cittadini italiani solo perché si è nati sul territorio quindi lo straniero arriva in italia ha un figlio in italia ahimè lo dico subito in questo momento il figlio non acquisisce la cittadinanza italiana perché in italia non esiste di diciamo non è la la situazione di default standard l'acquisizione di cittadinanza tramite ius soli ma tramite ius sanguinis la cittadinanza italiana si acquisisce principalmente iure sanguinis quindi per nascita da cittadini italiani e non iure soli per diritto territoriale quindi perché si è nati sul territorio cioè per la nascita sul territorio italiano anticipo sempre ma poi c'è scritto tutto è tutto dettagliato ci sono però alcuni casi particolari in cui si applica lo ius soli ci sono ovviamente dei casi se entrambi i genitori sono sconosciuti quindi si trova un bambino per strada non si sa chi sono i figli ci sono i genitori scusate questo bambino ha ovviamente non ha cittadinanza perché non si sa nel nome nel cognome non si sa chi siano i genitori automaticamente essendo nato essendo stato trovato sul territorio italiano quella persona quel bambino quel individuo acquisisce automaticamente per ius soli la cittadinanza italiana se entrambi i genitori sono a polidi senza cittadinanza quindi arrivano questi due immigrati che magari rifugiati magari senza cittadinanza eccetera eccetera hanno un figlio il loro figlio automaticamente acquisisce la cittadinanza italiana perché è nato in italia se i genitori sono stranieri e per legge in vigore nel loro paese non possono trasmettere la loro cittadinanza al figlio quindi c'è una legge che dice che all'estero ovviamente non 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 si acquisisce la cittadinanza non esiste le us sanguinis quindi non si diciamo eredita la cittadinanza dai genitori solo perché appunto sia nati anche all'estero e quindi in quel caso lì questo terzo caso molto simile questo bambino non ha cittadinanza in qualche modo e per diritto territoriale acquisisce automaticamente la cittadinanza italiana negli altri casi gli stranieri nati in italia possono richiedere la cittadinanza italiana quando diventano maggiorenni ovviamente quando si diventa maggiorenni poi si può discutere diversamente questo è sempre solo il caso dello io soli dei minorenni e poi abbiamo la naturalizzazione l'acquisizione della cittadinanza per residenza quindi sono uno straniero vengo in italia sto per un po' di anni quanti sono necessari per poter diventare cittadino italiano quindi quanti sono gli anni necessari per adesso andiamo a vederlo abbastanza nel dettaglio il cittadino straniero che risiede in italia per dieci anni senza interruzioni può richiedere la cittadinanza italiana la residenza si del periodo di iscrizione per esso l'anagrafe dei residenti ed eventuali periodi di permanenza in italia con il permesso di soggiorno non vengono conteggiati in alcuni casi è sufficiente un periodo di residenza più breve ad esempio tre anni per i cittadini stranieri discendenti fino al secondo grado quindi da parte del nonno da un cittadino italiano e per i cittadini stranieri nati in italia quindi sono un cittadino straniero sono nato in italia non esistono io soli ma io dopo tre anni posso fare eventualmente la richiesta per acquisire la cittadinanza quattro anni per i cittadini dell'unione europea sono un cittadino francese o tedesco vengo in italia sto per quattro anni posso poi vediamo con dei specifici criteri comunque acquisire la cittadinanza italiana cinque anni per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani l'avevamo detto questo prima cinque anni per gli apolidi o i rifugiati cinque cinque anni per quelli che non hanno una cittadinanza o che sono rifugiati quindi arrivano il loro paese ovviamente è in guerra o ha delle problematiche serie o comunque non permette di utilizzare lo iu sanguinis e quindi ovviamente hanno cinque anni dopo cinque anni di residenza possono richiedere nessun periodo di residenza in italia richiesto per gli stranieri che hanno prestato servizio alle dipendenze dello stato per almeno cinque anni anche all'estero in tutti questi casi per richiedere la cittadinanza italiana sono necessari i seguenti requisiti in aggiunta al periodo di residenza ecco quindi uno fa tre quattro cinque anni necessario nessun periodo per per quelli che hanno fatto servizio alle dipendenze dello stato come abbiamo letto prima però alla fine di questo periodo non è automatica la cittadinanza possono fare la richiesta ma devono comunque passare questi requisiti e cioè i requisiti sono conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello b1 in alcuni casi specifici è previsto l'esonero dipende dalle situazioni reddito minimo sufficiente per mantenere se stessi e la propria famiglia le soglie sono previste dalla legge e poi abbiamo l'assenza di condanne penali e di pericolosità sociale per richiedere la cittadinanza è necessario presentare una serie di documenti e inviare una domanda alla prefettura che è il ministero dipende dal ministero dell'interno oppure al consolato il consolato italiano per i residenti all'estero in via telematica la prefettura notifica richiedente la concessione della cittadinanza entro sei mesi dalla notifica il richiedente deve fissare un appuntamento con il comune per il giuramento quindi faccio la richiesta la prefettura la prefettura dopo mesi risponde dicendo ok ti concediamo la cittadinanza non hai le condanne penali eccetera eccetera è stato fatto tutto il controllo conosci bene l'italiano abbastanza per poter diventare cittadino ho tempo nel momento dopo la concessione ho tempo sei mesi per andare a fare il giuramento con presso il comune dal giorno successivo al giuramento si diventa cittadini italiani anche i figli minori conviventi acquisiscono automaticamente la cittadinanza italiana quindi un padre o una madre che diventano cittadini italiani anche i figli minori automaticamente quel giorno acquisiscono la cittadinanza italiana al raggiungimento della maggior età possono scegliere di rinunciarci se sono in possesso di altre cittadinanze quindi un figlio poi cresce diventa maggiorenne dice a me non interessa avere la cittadinanza italiana perché io voglio andare in francia voglio andare in inghilterra voglio andare in germania ci sono casi ovviamente ci sono tutti i tipi di casi possibili al mondo per ragioni magari sconosciute a noi in questo momento però possono richiedere di rinunciare perché finché sono minori dipendono dai genitori e devono ovviamente fare quello che i genitori dicono per matrimonio quindi acquisire la cittadinanza per matrimonio ed è sempre una naturalizzazione il cittadino straniero o apolite che si unisce in matrimonio unione civile con un cittadino italiano può richiedere la cittadinanza italiana dopo due anni di residenza in italia oppure se risiede all'estero dopo tre anni dal matrimonio unione civile i tempi si dimezzano se la coppia ha figli e va bene questo mi sembra abbastanza semplice no due anni se si risiede in italia o tre se si risiede all'estero che diventano uno o uno e mezzo a seconda se si hanno o no figli la cittadinanza viene concessa a condizione che il cittadino straniero non abbia condanne penali e che nel frattempo la coppia non si sia separata o abbia divorziato ovviamente perché passa del tempo e se uno ha si è divorziato si è separata la coppia ovviamente non è più non vale più quel rapporto di diciamo naturalizzazione per matrimonio e o è appunto la cittadinanza o divorzi per la cittadinanza non viene non viene persa per ottenere la cittadinanza per matrimonio è richiesto un livello di conoscenza della lingua italiana di almeno livello b1 come nell'altro caso che avevamo già visto per eminenti servizi rese l'italia quindi si acquisisce la cittadinanza italiana perché si è fatto un servizio per lo stato italiano di una certa importanza di un certo valore ecco può dipendere dalle situazioni sono azioni militari azioni politiche azioni di interesse appunto per l'italia lo leggiamo però viene ovviamente questi sono casi specifici particolari straordinari che vengono valutati uno a uno il presidente della repubblica su proposta del ministro dell'interno può concedere in via straordinaria la cittadinanza italiana a cittadini stranieri che abbiano reso servizi di notevole interesse in italia o che si siano distinti per meriti speciali a favore dell'italia oppure anche nel caso in cui ci sia un interesse speciale da parte dello stato italiano quindi c'è questa persona che ha fatto qualche cosa di straordinario di particolare con un grande con grande successo e c'è bisogno di questa persona continuare perché continui i suoi servizi lo stato italiano decide di rendergli la cittadinanza come si perde la cittadinanza italiana ecco questo è completamente il contrario di acquisire ovviamente c'è anche come dicevo prima ci sono tutti i casi possibili in questo mondo quindi c'è magari qualcuno interessato anche a capire come si perde la cittadinanza quali sono le condizioni le situazioni che ci fanno perdere la cittadinanza nei seguenti casi la cittadinanza italiana si perde automaticamente se ci si arruola volontariamente in un esercito straniero o se si accetta un incarico pubblico presso uno stato estero nonostante il divieto da parte del governo italiano se si presta servizio militare si svolge un incarico pubblico o si acquista la cittadinanza di uno stato estero con il quale l'italia sia in guerra se si è stati adottati e l'adozione viene revocata per propria colpa a condizione di avere di poter acquisire un'altra cittadinanza quindi sono stato adottato per qualche motivo non so ma per colpa mia l'adozione viene revocata se ho un'altra cittadinanza mi viene automaticamente persa la cittadinanza italiana in altri casi si può rinunciare quindi volontariamente alla cittadinanza italiana se si ha la cittadinanza di un altro paese o se si stabilisce la residenza in un altro paese quindi decido che vado a vivere negli stati uniti e non ritornerò mai più in italia mi sembra abbastanza strano ma si può decidere di rinunciare la cittadinanza italiana se si è stati adottati e l'adozione viene revocata per colpe non imputabili all'adottato a condizione di essere maggiorenni e di avere o poter acquisire un'altra cittadinanza il figlio che è diventato automaticamente cittadino italiano quando era minorenne per l'acquisto della cittadinanza da parte dei genitori abbiamo letto prima al compimento di 18 anni può rinunciare alla cittadinanza italiana a condizione di avere o poter acquisire un'altra cittadinanza ovviamente questi tre diciamo sono scelte sono le scelte per la rinuncia della cittadinanza italiana amici come dicevo queste sono una decina di slide per darvi un'idea diciamo grossolana magari è brutto come termine ma un'ampia idea di come funziona la cittadinanza italiana di come ci si può come si può diventare cittadini italiani so che ci sono molti stranieri che mi seguono che ci seguono che ovviamente hanno anche questo tipo di interesse la curiosità di capire come diventare cittadini italiani è un processo non semplice ovviamente queste sono dieci slide che lo raccontano in modo così ampio ma succinto comunque abbastanza rapido però danno un'idea più o meno di quali sono i passaggi per ovviamente quali sono le possibilità e chi può usufruirne per diventare cittadino italiano spero che ognuno di voi sia diciamo sia questa lezione sia stata utile per voi perché se qualcuno di voi ha bisogno di queste informazioni ovviamente poi deve andarsi a leggere tante altre cose che sono molto più complicate di queste però è un inizio per diciamo entrare in quell'argomento tanto diciamo ogni tanto diciamo un po' aggrovigliato un po' complicato come tanti argomenti in italia legati alla legge sono complicati però bisogna cercare di capirli amici come sempre un like un seguimi sul canale www.itapertutti siamo tutti su tutti i social l'ultimo è telegram però ci sono sempre tutti i social guardateli perché comunque pubblichiamo esercizi slide sui canali sulle pagine facebook su twitter instagram eccetera eccetera ringrazio tutti gli amici che ho come il pollice sempre qui di fianco che tutti i sabati mi salutano mi fanno compagnia durante la pubblicazione di premiere di questa lezione attivate le notifiche iscrivetevi condividete questa lezione con i vostri amici che vogliono diventare cittadini italiani ci vediamo il prossimo sabato con una nuova lezione di italiano per tutti ci sono 438 lezioni prima di questa guardatele perché sono tutte molto interessanti un bacione e un saluto a tutti ciao ciao